Anche oggi a Taranto molti arrivi dal nord Italia e da fuori regione, severi controlli messi in atto dalle forze dell'ordine e in particolare dalla polizia locale di Taranto. L'arrivo della gente da fuori regione è stato comunque gestito in maniera ottimale, come ci spiega il commissario della polizia locale di Taranto, Francesco Bianchi. Stamattina alle 8 abbiamo iniziato l'attività di controllo dei mezzi pubblici che vengono da fuori e abbiamo già controllato tre mezzi, uno da Bologna, uno da Torino e uno da Napoli. In totale 8 da una parte, 16 e 4 da Napoli. Ora stiamo aspettando l'altro che arriva da Milano per poterlo controllare. Fino ad ora non abbiamo trovato nessuna difficoltà, nel senso che i cittadini avevano con loro tutte le autodichiarazioni scritte perfettamente, hanno avuto un comportamento tranquillo, anche se erano stanchi del viaggio e hanno nell'insieme collaborato con questa attesa momentanea dell'autodichiarazione.